e ciao amici questa volta faremo video un po particolari in questo video giocheremo a subuteo samuel palle riprese e lorenzo e papi giocano chi vincerà io dico che vincerò 40 a 0 cominciamo siamo 0 a 0 io sono questi gialli sei pronto? sei venuto da 50 metri mamma mia è pochissimo ora chiama lorenzo la palla torna di nuovo a me grazie lorenzo che me l'ha passata è molto gentile guarda 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 si è bloccata la palla adesso dirà lui guarda come è gentile guarda mi sa sempre la pigli sempre tu però ok grazie guarda mi sa sempre la palla perché sai che io d'acqua segno sempre sei pronto? va ha fermato la palla sull'anghe di vento no non è entrata incredibile per pochissimo ho scassato il signore va bene allora facciamo ragazzi guardate siamo 1 a 0 1 aspettate devo mettere un attimo 0 ora tocca a me Lorenzo sta dormendo e io comincio a tirare bam grazie zia ma non è ancora finita qui fratello fratello non finisce qui io d'acqua segno sempre guarda vabbè non abbiamo detto il gioco il gioco è il subuteo io la chiamo oggi giocheremo anche a fifa 20 fifa 20 sul subuteo vabbè c'era più mia che è tua non è vero adesso tiro da qui giù ma la metti di meglio mannaggia la palla fuori è un sfida fuori è sfida questo partito è tutto storto cambiamo squadra no no è sempre così oh guarda ora tiro da solestima angolatissima parata del portiere di apire ma non te la puoi passare due fatte te la butto in mezzo e chi la piglia che sedere paratissima grande parata gol ahhh porca siamo due a zero vai aggiorni il cuteggio aspetta qua deve essere zero sta vincendo Lorenzo ma non è finita fratelli va alla sette si infatti pronto? vado? zitto stavo registrando vai passa a te mi hai passato la palla grazie molto gentile io me la passo il sesso io io le ho tirato quando lo capitava ragazze grande parata del portiere avversario il palone arriva direttamente in calcio d'angolo a parte Kulibali li la passa a me tenso sulla fascia simbola a palo incredibile posizione valorissima bello male mannaggia ma che sembra là va a finire non c'è di che arriva al centrocampo vado per il tiro vabbè la palla ancora buona un attimo al video perché la palla e l'attacco sul calcio d'angolo arriva ibrahimovic parata del portiere ma la palla è ancora buona ce ne provano tu questo vale tre questo vale tre stai scherzando ma un solo gol siamo due a uno tocca lorenzo metto io stai ancora a 0 stai ancora 0 stai ancora a 0 stai ancora a 0 stai ancora a 0 a seccato con il trovatello e siamo due pari lo sta tirando quando io stavo distratto carogna come due per 0 a 0 da qui posso segnare mannaggia mi sono colpito da solo papà per un attimo tenete la tua faccia infanita papà una bella faccia bella faccia bella faccia vado tiro non me la passo mannaggia me lo sbaglio a passare ah me l'ha passata Lorenzo grazie siamo due pari questa è una partita serratissima ah hai capito com'è gentile guardate quello ha visto che io non stavo segnalato ma glielo faccio segnare sei pronto alla bomba parasta bomba e andato in mezzo al labirinto bam 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 Teoro ti ho sfondato la porta 3 a 2 per te ti ho sfondato la porta prima avevi vinto tu non è fida la partita fratello vale a 7 siamo 3 a 2 infatti puoi anche recuperare ho rotto la porta Almenti ti ho tirato forse io l'ho sfondata alla porta sua, vedi se ne vedo a pezzi. Eccolo qua il pallone! Pronto? Vado? Deve dire! BAM GOOOOOO! No! Era distratto per la malcosa! Ragione, io ora ti faccio gli imbrogli, vai ripartiamo! Vado? Sì! Mannaggia! No, dico una cosa, non fai niente! Non fai un pallonetto! Non fai niente se ero distratto! Non fai niente se ero distratto! Se ne aspira polvere! Ma che sedere! Adesso è fortuna però! Il gol! Fatemi vedere il signore! Il gol! Non si vede, non si vede! Si vede! Adesso è fortuna però! Allora, aspetta prima mi hai fatto questo un gol! Ma tu la Cristiano, vai con me! Tiro? No! Vado? Goal! No, no, il pareggio! Il pareggio immediato! Non è vero! Quattro pari! Non pareggio imbrogli! Vai fratello, vai! Quattro pari! Vale a sette! Chi ci arriva prima, vai! A me la stai passando? Grazie amore! Grazie, grazie! Beccati sta bomba te! Bomba! Beccati! Ma beccati sta bomba! No! Beccati sta bomba! Ma che fai? Tira lì indietro! Eccomi! Eccomi! Monta! Bomba! Bomba! Da qui! Da centrocampo! Arriva! Eccolo! Mertens! La passa! Politano! Politano! In posizione defilata! Quattro pari! Quattro pari! Quattro pari! Quattro pari! Vai! Io stavo a quattro, fratello! Guarda! Già stavo a quattro! Non sto a cinque! Tu vuoi fare gol! Vai! Vuoi fare gol tu? Già stavo a quattro, non sto a cinque! Vuoi fare gol! Vai! E beccati sta! Ah! Me l'hai passata? Grazie! Beccati questa! Fratello, guarda come si viene da centrocampo! Zooo! Ma si è scarso a FIFA! E stiamo a sei, manca l'ultimo gol! Non si vede! Non si vede la porta! Non c'è veduta! Non c'è vista la porta! 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 Che non mi devi fare i gol che ammazza! Vai! Oh! Sono bloccato il mio portiere! Ragazzi! Ragazzi! Stiamo facendo una battaglia epica! Una battaglia veramente epica! Siamo su sei a quattro per me! Lorenzo tira e piglia le paparelle! Un altro tiro e piglia le paparelle! Qual è? Che ha vinto? No, siamo sei a cinque! Ah, sei a cinque! Io devo fare l'ultimo gol! Se lo faccio ho vinto! Sei pronto? Sì! Sì! Guardate! Qua è tutto storto! Vado? Ok! Guardati questa! Perché questo tiro entrerà nella storia! Porca miseria! Porca! Oh! Sta bomba! Porca! L'occasione d'oro! L'occasione d'oro! Vado a tirare! No! Ho preso il pollo! Sì! Non ci credo! Vieni! 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 Non vale! Quando esci la palla... No! Stai mettendo il riporto! No! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! No! Non ha ancora vinto! Non è entrata! 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 Ma sempre alla stessa! Oh! E vince! E guarda! Che ha vinto! Abbiamo vinto! Che cazzo! Oh! Oh! La coppa del mondo! Ehi! Ehi!